No 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 che zero sulla scia No 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 Avevo fatto una prova incredibile Bella ragazzi qui XWill E ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 Online con Indovinate un po' con la nuova Modalità scia mortale Perfetto raga mappa Che ancora non ho mai giocato E' perfetto raga comunque sia Per chi non conosce questa modalità Consiste nell'uccidere gli altri Giocatori con la propria scia Io per esempio adesso ho la scia verde E devo uccidere gli altri Che hanno l'altra scia Quindi ragazzi fatemi sapere se volete altri video Su questa modalità Ma ho ucciso appunto Stavo dicendo fatemi sapere se volete altri video Su questa modalità lasciando veramente tantissimi Like superiamo assolutamente I cinquan... no 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 Sì che culo Lì voi non avete la minima idea Di quanto culo ho avuto Cioè ragazzi è tozza a ma Proprio la scia si è levata Al millimetro Comunque sì appunto Superiamo assolutamente I cinquanta like Se volete altri video Su questa Modalità Competizione Io sono morto Raga tra l'altro se arriviamo a 60 like In settimana vi faccio Avere un video su questa modalità Perché il massimo è 4 Ho ucciso 1 perfetto Quindi raduno 3 miei amici youtuber E facciamo un bel video Su questa modalità secondo me viene qualcosa di bello Mamma mia raga Ancora era appena Respaunato lì non aveva la scia Se no morivo male come un deficiente Se io voglio ucciderlo no Non posso più raga perché lui ormai Se n'è andato troppo lontano Dai che quello rosa l'ho uccido Chissà se l'ho ucciso No 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 non devi uccidere da solo però Non lo so raga forse l'ho ucciso Forse no spero No non l'ho ucciso mai nella vita Non so come diavolo è possibile però Non l'ho ucciso No 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 zio Stai con galmate lì Adesso saltiamo che c'è il power up Quindi lo spruzziamo Perfetto mi raccomando raga inoltre condividete Su con le condivisioni Perché ovviamente se lo condividete Il video arriva più ovunque E quindi se volete il video La in tre è la miglior cosa E condividere così almeno Arriva più persone possibili Ma dai ma mi sono suicidato Come se stavo camminando Io non ho parole raga Stavo camminando E mi sono suicidato Intanto sto qui Deve morire adesso Deve morire deve morire Deve morire deve morire Non è morto ancora Dai e mi sono ucciso io tra l'altro E vabbè io c'ho due vite L'altro c'ha due vite L'altro c'ha quattro vite raga Ma porca vacca Ma io perdo sempre così eh Io non ci credo raga Veramente assurdo però Cioè non posso perdere così Due volte Che finisce così magari Da round perdente Sì da round perdente Perfetto Ed eccoci qua ragazzi Con il secondo round Io però non ci credo Non ci voglio Fottutamente credere Ho perso perché Mi sono schiantato Duecento volte Mi sono suicidato Tre volte In realtà mi hanno ucciso Una volta forse Boh raga Io non ho veramente Non ho veramente Le parole Per descrivere tutto ciò E' qualcosa di veramente Ridicolo Muoio veramente Ridicolizzantomi In una maniera Assurda Tra l'altro Non muore nessuno Quindi capite un po' Da soli Che è veramente Un casino Uccidere qualcuno Su sta mappa Poi che è una mappa Piena di vie Però c'è una cosa qui Che non mi piace Quindi torno indietro Grazie Cioè raga Ci sono troppe vie Sta cavolo di mappa Io non capisco nulla Dove devo andare Ci sono altre mappe Molto ma molto Più semplici Però questa qui È la più bella esteticamente Ed è morto Chi è morto È morto No 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 Non ci credo Raga come si è salvato Sì Non è vero Boh raga Io non ho parole Cioè ci rendiamo conto Come muoio Salto in aria Volo O almeno uno L'ho ucciso Comunque si è Sombartito verso il cielo Quello che ora Doveva morire Invece no Perché la mia moto È diventata un cancuro Appena si è schiandata Ma adesso deve morire Raga Non me ne frega nulla Cancuri e non cancuri Te adesso sei morto Perfetto Anche questo qui muore Non è vero Raga Non è vero Non muore Anzi attenzione Che qui moriamo noi Ok la scia è elevata Io sono qui da solo Praticamente Raga non ci sono scie Non c'è nulla Assolutamente Proprio Sono qui da solo Senza nessuno Le scie non ci sono Sono tutte di sotto E io qui mi prendo Il power up Del tempo Il power up Del tempo Si Quindi potrebbe essere Utile In qualche situazione Abbastanza Complicata Vediamo un attimo Tipo creiamoci Sta situazione Complicata adesso Tipo questo arangione Adesso lo voglio Uccidere di nuovo No Ma ce la farò Ma in teoria Lui dovrebbe uccidere Me in teoria Ma io tipo Qui il coso No Ce l'ha fatta A sterzare Raga Bastardo Si è suicidato Si è suicidato Con la sua stessa scia Bravissimo Che sei Sei veramente bravo E sei suicidato Con la sua stessa scia E mi va Più che bene Raga Mi va più che bene Mi accontento Ugualmente Mamma mia E quel tizio Chi l'aveva visto All'arangione Chi rimane una vita E poi viene escluso Dai Stavo dicendo All'arangione Chi rimane una vita E poi viene Buttato fuori Dai giochi Eh Sono esploso Mi sono suicidato Va benissimo Ugale Raga Va benissimo Arangione Muori Arangione Ok raga L'arangione Si è suicidato Dopo che mi ha ucciso Però mi ha ucciso Pure a me Perché mi ha fottuto Con la sua scia Vedete come è sta modalità Allora Raga C'è il tizio Quello La rosa Che non è Cioè è morto Una volta sola Ed è abbastanza Strana Come cosa Quello si è suicidato Poi mi spiegate Come ha fatto Se l'ho ucciso io Dalla scia Almeno sono convinto Che l'ho ucciso io Ma invece qui mi sa che mi sto chiudendo da solo Qui c'è il turbo Che uso Adesso Che l'ho chiuso ed è morto Perfetto Devo muovermi con una delicatezza Veramente Incredibile Cioè rega Veramente Ma veramente Incredibile Perché Io ho due vite E gli altri Non ci credo Ma questo viola qui Comunque si è abbastanza sculato C'è da dire Ecco io adesso Sono chiuso nella mia scia Io non ho parole Sicuramente vince di nuovo Quello rosa Ma è scondato Rega è scondato Non credo Ci faccio fare lo spareggio E difatti Ha vinto quello rosa Sì Round perdente Ed eccoci qua ragazzi Con il terzo Round Boh rega Veramente Io non ho parole Non ho veramente Muoio in modi ridicoli Ma ridicoli è dir poco Perché io non lo capisco Veramente Non lo capisco Assolutamente Sto gioco Come diavolo funziona Cioè guarda Cosa ho preso adesso Ho preso quel muro Lì nascosto Che non l'avevo nemmeno visto Allora Allora Attenzione Voglio uccidere questo rosa Non so se ci riesco In teoria L'ho chiuso Però lui fa il giro Quindi Scialla Non è morto Dai che ne uccido due Dai che ne uccido due Forse Rega Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Dai io vado giù al massimo No Si è fatto uccidere dall'arangione Il tizio rosa No 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 Che telo sulla scia No 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 Avevo fatto una provata incredibile Ah rega Avevo fatto una provata incredibile Avevo inclinato la moto In modo tale Che saltava Però poi Il lomino ovviamente È caduto dalla moto Perché è deficiente Ed esploso Perché nelle gare con la BMX Cade E sei morto Qui invece cade E sei morto ugualmente Però più brutalmente Perché Salti in aria Allora Il tizio Ma sa chiudermi Forse non credo Sai Ok mi ha chiuso per bene Però io adesso perdo tempo Perché giro intorno E in teoria Dal lì Mamma mia Mi stavo suicidando Appunto da qui c'ho la via di fuga Infatti sono uscito E ritorno in gioco In teoria Potrei essere un po' chiuso Forse Non lo so Raga Quello rosa però Fatto sta Che lo voglio Almeno Provare Ad uccidere Eh vabbè Raga È andata come è andata Io non ho parole Veramente Cioè ma ci rendiamo conto Che cazzo è successo Perché Perché Non lo poteva fare lui Sto saltino di merda Perché l'ho fatto io Oh raga Io ve l'ho detto La mia moto è un ganguro Che ci posso fare Ma siamo seri Ma siamo veramente seri Siamo impazziti O almeno uno è morto Comunque sia sta modalità Quando è strana Cioè raga Per farvi capire Quello rosa Che poco fa Aveva tutti i punti Adesso Ha finito le vite E quello arangione Che poco fa Ha finito le vite Adesso ce le ha tutte Va bene Va benissimo Dai che ti fotto con il turbo Perfetto Grandissima Ah raga Quell'arangione L'ho rifotto Mamma mia Mamma mia Raga Dai che ce lo portiamo a casa Forse E io adesso L'ho fatto così Facceli per mega volazzo Vola No 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 Però no Sulla linea No sulla linea Io non ci credo Diciamo tutto quel che vogliamo Ma io non ci credo Raga Io non ci voglio Assolutamente Credere Come diavolo è possibile Che sono atterrato Proprio sulla linea Del tizio Ah raga Dobbiamo eliminare il rosa Così alla fine Ce lo spareggio Perché non moriva Perché non moriva in qualche modo strano Così Adesso forse fa fare lo spareggio Sapete Perché in teoria siamo Io contro lui E in teoria dovrebbe esserci lo spareggio Perfetto Infatti C'è l'aria E qui adesso E qui adesso È un casino assurdo Perché c'è l'aria Che si restringe E va bene E Va bene Va bene Va bene Sì sì L'ho ucciso L'ho ucciso Mamma mia raga L'ho ucciso Non so come Vincitore E abbiamo vinto la partita Raga Mamma mia Mamma mia Che bellezza Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Mi raccomando Superiamo assolutamente 50 like Per altri video Su questa modalità Inoltre Fatevi sentire Qua sotto nei commenti Scrivendo una qualsiasi Frase E mi raccomando Condividete il video Come dei matti Quindi Se volete passare Dalla pagina di facebook E da proprio Instagram E mettete il link Qua sotto In descrizione Iscrivetevi A canale Per i miei video Quatex Quelli è tutto Bella raga I mi raccomando Alles I mi raccomando I mi raccomando Ciao 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 Che vi fuzie a tutti